La biliante è vedere come si litiga su qualcosa che non ha funzionato e che oramai molti che l'avevano volontariamente scaricata l'hanno disinstallata. De Magistris, uomo di politica ma anche uomo di diritto, è colpa della destra che ha fatto fallire Immuni o è colpa del governo che ha messo in campo uno strumento che non funzionava? A me con sincerità non ha mai convinto l'App Immuni, quindi non credo che sia colpa della destra, è stato un periodo in cui regnava molta confusione, il governo non fu convincente, c'erano temi attenenti alla privacy, anche io sono d'accordo in questo caso che non bisogna prendersela con i cittadini, la verità è che non è stata convincente. Io devo dire che mi dovetti addirittura una volta difendere proprio perché volevo dare un segnale al governo, me la scarico, ma se devo dire la verità non ci ho mai creduto ed è stato un fallimento, bisogna riconoscerlo.